Il lavoro che oggi è stato svolto è proprio quello di individuare nella maggiore efficienza della pubblica amministrazione e nelle risposte precise una possibilità ulteriore per le imprese e la campagna. Noi come rappresentanti della magistratura tributaria abbiamo posto l'attenzione su una maggiore efficienza ed efficacia della funzione regolatrice che svolge la giustizia tributaria, soprattutto nella tempestività delle risposte che deve dare all'imprenditore quando c'è un conflitto con lo Stato o con gli altri enti impositori. Ovviamente non basta questo, bisogna che l'intero sistema delle attività che si rivolgono alle imprese e alle istituzioni sia efficiente e anche in questo noi cercheremo di collaborare.